Come molti di voi sanno, oltre che essere specialista in scienza alimentazione e specialista in medicina e lo sport, sono anche stato campione italiano di bodybuilding e ho anche seguito molti atleti agonisti in questa disciplina. Però molti invece non sanno che sono stato anche nel 1994 il medico della squadra dell'Emilia Romagna che ha partecipato al Giro d'Italia, il ciclismo. Ebbene, è stata una bellissima esperienza dove ho potuto toccare proprio con mano quanto sia duro questo sport. Tanto è vero che addirittura alcuni giovani atleti, dopo quell'esperienza, soprattutto dopo le tappe in montagna, si erano riproposti di abbandonare il ciclismo. L'integrazione di questo sport era prevalentemente basata sull'utilizzo di bevande con carboidrati solubili, facilmente assorbibili, come miscele di maltodestrine e fruttosio, amminoacidi ramificati e sali minerali. E in situazioni anche di gare e di tappe prolungate, come erano appunto quello del Giro d'Italia, era fondamentale anche potersi nutrire con alimenti solidi, perché fondamentali proprio per non far sì che ci sia quella sensazione di vuoto a livello dello stomaco che pregiudica un po' anche la prestazione. Beh, diciamo che io stesso ricordo con piacere anche il fatto che gli stessi miei corridori mi dicevano, dato che anch'io ero solito partecipare ai momenti di rifornimento, dove soprattutto si rifornivano gli atleti dal punto di vista idrico durante queste prestazioni così prolungate, appunto mi dicevano che mi riconoscevano da lontano, proprio perché avevo una struttura muscolare un po' diversa dagli altri. Ebbene, l'integrazione da quei tempi non è che sia cambiata più di tanto, sono ancora questi gli integratori più importanti nell'ottica appunto di uno sport come il ciclismo. Però, senza dubbio, quando diciamo uno sport è particolarmente intenso e a livello professionale, come era in questo caso, oggi ci sono anche altri integratori che vengono utilizzati per massimizzare la prestazione. E tra questi sono quelli che sono finalizzati a stimolare la produzione dell'ossido nitrico, perché si è visto che l'ossido nitrico, tramite il suo effetto, diciamo, di aumento di vascularizzazione e quindi di potenziamento del flusso sanguigno a livello periferico, a livello anche muscolare, fa sì che ci sia un aumento della VO2max, che è la capacità massima di utilizzare l'ossigeno e quindi di migliorare la prestazione aerobica e di ridurre la tolleranza proprio anche allo sforzo di tipo aerobico. Quindi, integratori come l'arginina, la cetrullina, il succo di barbabietola, che contiene nitrati proprio in grado di potenziare la produzione dell'ossido nitrico, vengono oggi utilizzati a questo scopo. Poi, recentemente, allora non c'era, recentemente, insomma, da qualche anno, esiste anche la possibilità di integrare con la betalanina. La betalanina, in realtà, è una sostanza tampone, quindi è una sostanza che è praticamente efficace negli sport di tipo anaerobico lattacido, perché tampona appunto l'acido lattico. Però è anche vero che nelle gare di ciclismo, soprattutto quelle più brevi e praticamente intense, come può essere anche un acronometro dove si supera la cosiddetta soglia, allora tamponare l'acido lattico, che diventa un fattore limitante della prestazione, diventa importante. La betalanina, essendo il precursore della carnosina, che è appunto la sostanza tampone a livello muscolare più importante, esercita questo effetto. Un altro integratore che può essere utilizzato per migliorare la prestazione aerobica nel ciclismo è la caffeina. La caffeina era stata a un certo punto inserita nella lista doping, ma ormai già da tempo non l'è più e di conseguenza la caffeina, soprattutto sempre negli sforzi più brevi e intensi, è utile perché esercita il suo effetto ergogenico, diminuendo anche proprio la sensazione di fatica.